Ciao a tutti amici, benvenuti al mio canale, io sono Moira e oggi siamo su SimCity Città del Futuro. Allora, ho apportato ancora qualche modifica a questa città. Come potete vedere non ci sono più le strade curve ma ho preferito dei rettangoli. Diciamo che le strade che c'erano prima non mi piacevano proprio per niente, soprattutto perché non riuscivo a piazzare gli edifici, i parchi, eccetera. Invece così a quadrati mi piace molto di più. Poi un'altra cosa, si è sbloccato il QG del gioco d'azzarlo, quindi io direi di piazzarlo subito. Allora, vediamo, vediamo, vediamo dove possiamo metterlo. Io lo metterei qua, oppure qua. No, no, dai, mettiamolo... Ma non ci sta? No, non ci sta. Vabbè, dai, mettiamolo qua così, perfetto. E ora dovremmo poter piazzare questi qui, perfetto. Allora, vediamo, 120, 140... No, dai, cominciamo pure con questo. E lo mettiamo... Vediamo, come possiamo metterlo? Oh, no, qua non mi piace. No, lo mettiamo qua così. Perfetto. E lo miglioriamo subito. Allora, ci serve questa. E la mettiamo qua così. Poi ci serve uno di questi e lo mettiamo qua così. Questo non è ancora stato approvato, ok? E poi mettiamo un cartello qua. Perfetto. E anche questa è fatta. Poi, vediamo questo che cos'è. Ah, è un negozio così a caso, d'accordo. Poi abbiamo... Cosa mi dice? Ah, le aule sono piene. Ok, allora. Fammi vedere... Sì, è migliorato al massimo. Magari aggiungiamo un altro tipo di scuola? Oh, intanto la biblioteca non l'abbiamo messa. Quindi io direi magari di mettere la biblioteca da qualche parte. Magari la mettiamo... Dove possiamo mettere una biblioteca? Qua. O anche qua. No, dai, la mettiamo qua dietro. Qua così. Ok. La scuola superiore oppure la scuola professionale? Ah, vorrei farvi notare che ho messo un po' di industria. Cioè, lo so che in questa città non dovevamo mettere l'industria, però dato che c'era lo spazio ho detto, vabbè dai, un briciolo in industria ci sta sempre. Comunque, cosa... Sì, la scuola. La scuola superiore. La scuola superiore la possiamo mettere qui dietro. Oppure anche no, lì non ci sta. Se io la metto qua, la palestra mi sta dopo. Allora, così dovrebbe starci. Vediamo un po'. No, ma cosa? Maledizione. Non ci sta. Ah, però ci sta di fianco. Va bene. Va benissimo. Poi, direi di mettere magari già un altro casino. Cosa abbiamo? Casino... Ah, ma non abbiamo più i soldi. Eh beh. Poi abbiamo comunque il casino romano e il casino elegante, ok? Qui sta già migliorando. Invece abbiamo anche un miglioramento del municipio, quindi direi di farlo subito. Perfetto. Poi, qua in mezzo abbiamo detto di metterci... Vediamo dov'è. Qui forse lo stadio. Questo qua. Costa 225.000, ok? Lo metteremo qua. Mi piace proprio. Quindi, i casino... Aspettate un attimo. Vediamo quanto grandi sono. Questo starà qui. Questo starà qui. Ecco, no. Forse questo... No, dai. Forse questo ci sta. I miglioramenti per il QG del gioco d'azzardo li metteremo qua dietro, penso. Sì, qua dietro li metteremo comunque. Magari ci mettiamo anche un cartello. Ok. Allora, adesso vediamo un po' cosa possiamo fare. Qua intanto comincio a chiedermi le acque reflet. Tu binzati? Ok, allora io direi di mettere uno di questi. Vediamo dove può starci. Qui di fianco. Io lo metterei qua di fianco. Quindi, qua così. E ne aggiungiamo già un altro. Adesso aspettiamo un attimo che arrivi la gente a lavorare. E poi chiudiamo queste. Aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo. Arriva. Ok, perfetto. Eccoli. E allora, adesso chiudiamo questi due. E aspettiamo che si svuotino e poi li cancelliamo. Poi, vediamo un po' qualcos'altro. Come acqua siamo a posto. Come energia, sì dai, ci siamo. Forse l'acqua è meglio aggiungere un'altra di queste. Vediamo, la possiamo mettere qua dietro. Oppure, vediamo, vediamo, effettiamo. Qui non ci stanno, no? No, dai, la mettiamo qua dietro. Perfetto. Poi, qua adesso siamo a posto. Qua siamo a posto, a posto. Qua tutto bene. Adesso qui non dovrebbero esserci più problemi perché abbiamo aggiunto un'altra scuola. Queste qua si sono svuotate, sì. E allora possiamo eliminarle. Sì. Sì. E rimettiamo le industrie. Non ci stanno? Ah, no, non ci stanno. Ok. Pensavo ci stasse qualche industria, d'accordo. Una scuola adesso qua, come sta andando? 21 studenti, vabbè, per le classi non c'è problema. Però io magari la palestra ce l'aggiungo. Perché mi piace. Ok. Vediamo un po'. Il prossimo casino costa 140. No, non chiederei un prestito. Aspettiamo. Ci conviene aspettare, dai. Allora, magari possiamo aumentare un po'. Vediamo. Le strade dovrei averle migliorate tutte. Sì, sì, ok. Le strade sono tutte migliorate, a parte quelle dell'industria, ma quelle che non ci interessano. Invece, cosa volevo fare? Ah, sì, i parchi. Come siamo messi con i parchi? No, dai, ce ne sono in abbondanza. Magari, no. Questo mi sa che non si può aggiungere nulla perché non ci sta. Ah, no, esatto. Allora, questo no. Magari questo qua si potrebbe migliorare ancora. Magari ci mettiamo questo. E anche questo si può migliorare. Quindi ci mettiamo questo. Ok, dai. Ok, poi qua magari farò una strada. Potremmo anche già farla. Vediamo. Vorrebbe fare una strada così. Beh, magari dritta però. Wow, che storta! Ok, perché è così storta? Ah, perché ho fatto storta quella. Eh, vabbè. Eh, sì, l'ho fatta un po' storta. Aspetta. Un po' più su. No, ancora? Beh, dai. Così viene fuori abbastanza dritta. Però direi di farla più avanti magari questa. Ok. Poi, facciamo una cosa. Vediamo. Bisogna. Io quasi quasi vorrei andare qua per piazzare un'altra torre, un'altra megatorre. Ho voglia di un'altra megatorre. Ok. Allora, adesso abbiamo anche i soldi e quasi quasi metterei una torre d'elite. Eccole qua. Questa costa 2,24. Invece quelle normali costano 120. 126, 180. Allora abbiamo pieno di appartamenti, commerciale e uffici. Io farei ancora appartamenti. Ok, dove possiamo metterle? Allora, qua non ci stanno. Qua sì. Mediamo, vediamo, vediamo. Io la metterei qua. Poi se riusciamo a collegarle, spererei di sì, ma non so. Più che altro perché forse si possono collegare soltanto le stesse megatori, cioè megatori dello stesso tipo. Vediamo. No, allora facciamo così. La mettiamo da questo lato. La mettiamo qua. Casomai facciamo qui i megatori normali e qui i megatori d'elite. Così se nel caso non si possono collegare tra loro, le lasciamo comunque staccate, non c'è problema. Allora, dobbiamo metterla qua. Sì, io direi di stare qua centrale. Vediamo. No, così mi piace di più. Oppure in angolo. Questa l'ho messa centrale, no? Sì, sì, no, dai. Mettiamo la centrale anche questa. Vediamo se ci sta così. Perfetto. Ok. Colla che ci teniamo in istante con una megatoria d'elite. Perfetto. Allora, mettiamo un po' la velocità e aspettiamo che cresca. Allora, a proposito, qui quanti piani abbiamo messo? Otto. Oh, abbiamo messo otto piani. Quindi ci manca la corona. Ok, io direi di mettere una corona. Abbiamo la corona di energia solare. E produce energia. Come siamo messi con l'energia? Aspettate. Di energia... No, di energia ne abbiamo in abbondanza. Quindi non mi interessa. Poi abbiamo la corona aria pulita. Però dobbiamo fare la ricerca. Vabbè, non importa. Corona turistica. Mmm, questo è interessante. Montagna russa. Ok, questa la voglio. Cartellone volicitari. Corona nei parchi. No, io direi questa qua. La montagna russa. Wow, sì, assolutamente sì. Ok. Non so se... Vediamo. No, non mi lascio ancora vedere. Ci sono le stesse corone anche qua. Adesso vediamo. Aspettiamo che intanto costruiscono anche questa. Al 20%. Dai, dai. Voglio vedere la torre... La montagna russa. Ok, questa si è completata comunque. Vediamo un po' se cambia qualcosa. Allora, abbiamo agli appartamenti di livello alto, diciamo. Lo stesso vale per i piani commerciali e per gli uffici. Come servizi. Piano delle locazioni, piano dei parchi. Poi per il resto mi sembra tutto uguale. Corone. Corone ane pulita. Corone ane gestionale. Corone turistica. Corone a planogramma. I parchi del... Va bene, ok. Sì, praticamente sono gli stessi, solo che sono un po' più avanzati, diciamo. Comunque, adesso abbiamo qua un piano di appartamenti. Io direi di metterne subito un altro. Di quelli ad alto reddito. Avvia costruzione. Ok. Qua hanno completato... Sì! Wow! No, non l'hanno ancora completata. Quasi. Quasi. È talmente alta... Ok, ce l'hanno fatta. È talmente alta che non riesco a vederla. Ok, adesso sì. Oh, che è chiuso. Cerca si... No, dai, venite. Voglio vedere che funziona. Eccola. Ok, sta funzionando. Vediamo se arriva... Non riesco a vederla. Maledizione. È troppo alta. Ok, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Forse se la giro così è meglio. Vediamo, vediamo, vediamo. Non c'è nessuno che viene. No, l'ho sbagliato. Nessuno? Dai, che voglio vederla in funzione. No, forse non si vede in funzione, allora. Pensavo di vedere, tipo, qualcosa che gira. Niente? No, forse perché stiamo perdendo. Non è ancora arrivato nessuno. Eh, stiamo perdendo. Vabbè. Wow, che cosa... Ah, ok. Sembrava un cuore visto dall'alto. Beh, effettivamente. Comunque, non abbiamo messo per caso il teatro qua. No, non c'è il teatro. No, vabbè. Comunque. Torniamo a questa. Vediamo cosa possiamo mettere. Gli uffici non li abbiamo mai messi, credo. Vediamo. Gli uffici. Appartamenti, appartamenti commerciale, educazione. No. Gli uffici non li abbiamo mai messi. Io li metterei. Ah, alta tecnologia. Sì, assolutamente. Perfetto. C'è qualcosa da demolire, per caso? No, nulla. Mi sembrava. Wow, che cosa? Oh mio Dio, questo non l'ho mai visto. No, è bellissimo. Questo non l'avevo mai visto. Oh Dio. Ok. Wow, anche questi sono nuovi. Bellissimi. Questo che cos'è? Questa c'ha la biosfera sul tetto. Oddio, sono bellissimi. Sono curati nei dettagli in una maniera incredibile. Qua c'è nessuno che è venuto. Wow, sì, ci sono le luci accese. Ci sono le luci accese. Perché? C'è nessuno. Wow, ok, eccoli, eccoli. Oh Dio. Ma volano in aria. Oddio. Aspetta, aspetta. Voglio vedere ancora. Aspetta. Basta. Eccolo, eccolo. Ok. Ok. Oddio. È terribile. Oddio. Non vorrei mai andare qua. Oh mio. Comunque, qua abbiamo messo. Abbiamo bisogno di lavoratori per guadagnare. Lavoratori di che? Lavoratori. Ma se è una basso o medio reddito? Carenza lavoratori. Eh, ma non mi dite... Eh, ma non mi dite... Eh, mi sa a medio. A medio reddito. Ok, arrivo. Eh, non ne ho. Ah, sì, ne ho. Avvia costruzione. Qua cosa mi dice? La notte cosa? La notte si avvicina. I criminali sono molto più decidi. Non delle nuove polizie potrebbero non essere preparate. Perché quante macchine della polizia abbiamo? No, qua siete al massimo. E come celle siete a posto. Ce n'è soltanto una? Sì, ce n'è soltanto una. Quindi... Vabbè, dai. Tre. Perché tre? Eh, vabbè. Però è al massimo. Magari più avanti ne aggiungeremo un'altra. Wow, che belli questi palazzi. Wow, sta anche piovendo. Qui come siete messi? 80%, ok. Wow, questa è bellissima. Wow, wow. Guardatelo. Oddio, sembra un lombrico. Qua per caso c'è la montagna russa? No, infatti. Corona turistica. Qui manca. Ok. Ah, aspettate. Si è completato. Le case vanno discretamente. Funzione. Ok, magari mettiamo un servizio. Cioè, piano dell'educazione. In tutta la città. Ah, no. Io farei quello dei parchi. Ok. Magari mi ha aumentato anche il valore del terreno tutto intorno. Sì, infatti. Ok. Bella però. Mi piace molto. Molto particolare. Sì, effettivamente. È sicuramente molto più bella di questa. Però dai, anche questa è il suo fascino. Molte luci. Molti cartelloni. Insomma, dai. È carina anche quella. Oh, acqua e reflu. È un problema con le acqua e reflu. Arrivo. Dov'è? Qua. Vi aggiungo subito un paio di questi. Allora. Un paio. Praticamente ve li ho messi tutti. Vabbè, ora vi bastano. Poi come acqua siamo messi a posto. Energia. L'energia sta finendo. Allora mettiamo un altro di questi. Ce ne sta un altro? Ok. Io quasi quasi ne metto già un altro. Dato che ci siamo. Perfetto. Così l'abbiamo anche completata. Qua siamo a posto. Ma siamo quasi arrivati al prossimo miglioramento. Qua siamo a posto. A posto. Beh, vabbè. Insomma. Sì, vabbè. Gli studenti. Sì, vanno benissimo. E tutto bene. Sì, vabbè. I disastri. Meglio di no. Venga, i residenti. Aspetta. Del piano degli appartamenti sono insoddisfatti. Scusate la situazione. Sì, sicuro di essere le loro richieste. Altrimenti se ne andranno. Ah, questi. Perché? Non abbiamo un lavoro. Ok, questo è un problema. Questo è un problema. Forse perché ho messo... Vediamo. Forse devo mettere gli uffici a media tecnologia. O anche il piano 100... Ok, mettiamo questo. Mettiamo questo. E dopo mettiamo gli uffici a media tecnologia. Ok. Megatorre. Ah, ma volete dirmi che ho un massimo di megatorri? Uno, due, tre. Posso mettere un massimo di... Di... Mi sa che posso mettere soltanto un massimo di otto megatorri per la mia città. Vabbè, dai, tanto non penso ne metteremo otto. Probabilmente ne metteremo quattro. Un'altra qua e un'altra qua. E basta. Cinque, to, ecco. Se proprio dobbiamo. Ok. Allora, intanto qua... Direi di mettere subito gli uffici a media tecnologia. Perfetto. Quindi là sono insoddisfatti. Aspetta, toglimi via questo. Mi serve la mappa della felicità. Che è qua. Questi... Ah, intanto anche questo. Ci bisogna di più negozi. Ci ne andremo. Più negozi. Siamo... Stremati dal lavoro. Eh, vabbè, siete stremati dal lavoro. E cosa volete di più? Vediamo. Carenza lavoratori. Wow! Guardate questi! Wow, bellissimi. Qua è... Oddio. Con tutti i balconi bellissimi. Comunque, vi servono... Più lavoratori. Eh, vabbè. Allora, facciamo così. Togliamo via... Degli industrie e ci mettiamo a casa. No! Aspetta che c'è una pompa idrica. Ok. Vediamo se abbiamo tolto tutto. Qua no. Ok. E ci mettiamo a casa. Vediamo se così gli basta. Intanto la richiesta dell'industria è bassissima, quindi. Qua abbiamo bisogno di più lavoratori per guadagnare. Io metterei però i lavoratori sempre a basso... Cioè a basso, a medio reddito. Avvia costruzione. Questi qua... Vabbè, li demonisco tanto. Ok. Voi siete ancora scontenti? Sono stanchi del lavoro. Hmm. Questo è un problema. Però, come richiesta di negozi, non ce n'è. Quindi i negozi non gli servono. No, infatti. Gli servono residenti. Allora, aspettiamo un attimo che si completi anche questa. Qua cosa mi dice? Mega torre. Ah, lo so che sono scontenti. Ok, questo si è completato. Appartamenti. Vediamo. Ma posso già mettere le corone? Ah, sì, no. Giusto, sì. Perché abbiamo raggiunto... Sì, scusatemi. Non mi ero accorta di aver già raggiunto 8 piani. Allora, le corone abbiamo. Corona turistica. Corona pubblicitaria. E corona dei parchi. Io metterei la corona dei parchi. Che magari rende gli abitanti più felici. Vediamo. Visitatori al giorno. Aumenta la soddisfazione dei residenti per ogni visita alla corona. Ok, sì. Questa, se no... Interprofitti. Questo incrementa i profitti della mega torre. E questa, vabbè, fa arrivare i turisti. Wow, che cos'è? Tipo un paico scenico. Wow. No, no. Facciamo i parchi. Vediamo se così sono più contenti. Guardate intanto i palazzi come stanno crescendo. È incredibile. Guardate questo. E questo è un negozio. Wow. Allora, aspettiamo che si completi. Qui intanto, sì, si stanno facendo gli oro giretti. Un'ampata di fuoco. Abbiamo problemi con gli incendi? Poi mi dice che abbiamo problemi con i criminali. Forse è meglio aggiungere una di queste. Qui, 3, 0... No, dai, stiamo andando bene. Ok, si è completata? Sì. Felicità per gli appartamenti. D'accordo. Questo è un buon segno. Però ci sono ancora questi che sono tanto scontenti. Abbiamo bisogno di lavorare subito. Forse perché questi qua sono a medio reddito. E non ci sono negozi o robe... Non ci sono negozi a medio reddito, forse. Vediamo. Dove sono? Sono... Ah, sì, scusatemi, sono qua. Vediamo. Datemi un attimo la mappa... Esatto, sì. Perché abbiamo tutti i negozi ad alto reddito, mi sa. Sì. E allora sapete cosa facciamo? Facciamo una cosa. I negozi, dove sono qua i negozi? Qui c'è un parco, per caso? C'è questo. No, ma non mi va però di togliere i parchi. Vabbè, dai, togliamo questo. Sì, demolisci questo. Vediamo se è diminuito un poco, però. E allora demogliamo questo. E questo. Ok, magari adesso cominciamo ad avere dei negozi a un medio reddito, diciamo. E così anche i cittadini a medio reddito possono andare. Guardate qua che roba! Oddio, sono bellissimi. Ok. Quanto siamo? Eh, quasi quasi sarebbe anche ora di fermarci. Va bene, dai, comunque. Abbiamo capito che qua dobbiamo soltanto abbassare un po' il valore del terreno. Qua lampeggiava, perché? Perché possiamo migliorare il municipio. Dov'è il municipio? Eccolo qua. Migliora! Ok. Qua c'è una rapina. Aggressione, rapina e furti. Ecco cosa mi ha fatto diventare... Cosa? Ecco cosa mi ha fatto... Ah, ecco cosa mi hai fatto diventare. Oddio. Va bene, ok. Comunque, direi che possiamo... Wow, guardate che roba! Oddio, è incredibile! Aspettate, vediamo se abbiamo una visuale... Ok, questa è perfetta. Ok, allora, dicevo. Possiamo anche fermarci qua per questo episodio. Quindi lasciate un piaccio e un commento se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al mio canale e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Intanto, l'erba lista come siamo messi? Ok, siamo messi abbastanza bene. Ecco, esatto, questo vi dicevo. Adesso c'è l'omino che ha fame. Questo è problematico, perché quello lì morirà a breve. Purtroppo, è così. Intanto, io vi sto dicendo di andare a raccogliere la legna, ma voi la legna non me l'andate a raccogliere. Si può sapere cosa state facendo? Grazie. 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 Grazie.